Grazie per l'occasione al Machiavelli, al collega Picchi, devo dire che innanzitutto io mi trovo un pochino meno tranquillo di qualcuno che ha parlato prima di me a parlare innanzi alla sottosegretaria della difesa, ai signori e ai signori ufficiali, voglio mettermi un pochino più in imbarazzo, per quanto devo dire che io dichiaro già dall'inizio io sono, come si usa dire alle mie parti, un cicin più atlantista di Gian Andrea Vagliari, ma proprio quel poco poco, quel pochino così, anzi mi arrivo in mente ascoltando, non so spero di non poter fare una brutta figura, al famoso richiamo dell'imperatore Augusto che si mise a urlare varo e varo i danni le mie ragioni dopo la battaglia di Tertoburgo, però oggi almeno c'è stato un dramma militare consolidato e numericamente, come si può dire, è numericamente calcolabile. Non c'è l'amico Guido Crosetto, quindi io se mi permettete farò anche due passaggi compendianti sulla parte che riguarda l'industria della difesa, occupandone in maniera marginale. Innanzitutto il tempo della consapevolezza, lo sto dicendo in questo periodo. Il tempo della consapevolezza è quello che è stato, secondo me, ampiamente descritto. Indubbiamente eravamo pronti in questi anni a vedere una prospettiva di intervento militare che non era più quella delle grandi unità. Io quando ho visto la prima fotografia del rispiegamento di forze ho avuto a memoria quello che leggevo per passione sui libri di storia, mi è venuta in mente la battaglia di Kursk, con un rispiegamento militare che era qualcosa che mi ricordava la Seconda Guerra Mondiale, con qualcosa che noi non avevamo più visto perché, come è stato detto, chiaramente noi abbiamo impiegato in questi anni l'idea di un sistema di intervento militare che era molto legato alle forze speciali, alla bassa intensità dei conflitti e poi qualche volta io, non avendo più voglia di governo, posso anche liberarmi dei miei pensieri dicendo che forse l'utilizzo troppo politicamente corretto del termine peacekeeping qualche volta nasconde invece qualcosa di un pochino più rischioso, importante e implicativo di organizzazioni logistiche che non sono così banali. Io questo lo dico come inizio perché secondo me, poi parlando di intervento, ci sta tutto questo perché immagino anche che ci siano delle cose, io più che da ex sottosegretario della difesa vorrei parlare da ex Presidente attuale componente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica perché credo che ci sia una grande distinzione fra informazioni e notizie di cui poi parleremo. Le informazioni sono le cose serie, le notizie in parte sono vere e le altre non sono vere e quindi direi che questo è l'elemento centrale che ci porta a fare dei ragionamenti complessivi. La bassa intensità ci porta a quel ragionamento che forse avrebbe fatto anche l'amico Guido Corsetto. Io faccio sempre tre domande, dove vado, perché ci vado e con che cosa ci vado. Sono l'obiettivo geopolitico, il luogo geografico, l'obiettivo geopolitico e i mezzi con cui ci vado. Quante volte abbiamo discusso sulla difficoltà per esempio di raggiungere i teatri vicini, parlo della Libia, non ricondandoci o non dicendo che non avevano un elicottero, penso che non abbiamo ancora in grado di partire da Lampedusa e arrivare direttamente in Libia. Io quando sono andato in Libia ho fatto pratica di mare Lampedusa, Lampedusa, nave carabiniera, nave carabiniera, elicottero, misurata e ritorno nello stesso modo, perché forse l'adeguatezza delle scelte era giusto ragionamento, bisogna sapere dove andare e dove sai dove vai probabilmente indirizzi anche un'impresa che è quella dell'industria della difesa che voglio ricordare a tutti, a un moltiplicatore dal 2 al 3, quindi un euro impiegato nell'industria della difesa viene moltiplicato 2 o 3 volte al secondo dei settori per riuscire ad avere i mezzi adeguati che ti permettono almeno di partecipare al raggiungimento di un obiettivo. Quale raggiungimento di un obiettivo vuol dire prima di tutto poterlo fare, seconda cosa fare qualche cosa mettendo in sicurezza i nostri uomini e le nostre donne, terza cosa possibilmente rimanerci, mi viene in mente una vecchia dottrina, scusatemi, non guardatemi con quella fazza inquisitoria, però mi ricordo che da ragazzino quando guardavo l'applicazione mi ricordo che ho visto la mia prima cartina, non la sono fatta da sola, quanto i tuoi chi fece l'invasione di Unisora del Mediterraneo. E da lì mi appassionai della storia e mi ricordo che cercai da ragazzo, quindi senza una grande capacità di seguimento, di leggere Von Clausewitz, dove metteva innanzi a tutto il resto l'elemento della logistica, perché io posso pure andarci in un posto, però se devo rimanerci devo avere la capacità poi di far arrivare la logistica, quindi il vettovagliamento, il munizionamento e tutto il resto. Su questo ci sta l'aspetto dell'industria della difesa, che è molto più ampio di quello che qualcuno può immaginare. C'è un piccolo particolare, non penso di rivelare nulla di segreto. In questi giorni, in qualche trafiletto di giornale, si è letto che gli alleati statunitensi avrebbero fornito al Paese una presenza di alcuni sistemi d'arma per la difesa aerea. Io vorrei ricordare anche in questo caso che se quattro anni fa non avessimo avuto qualche forza politica che ha vietato l'acquisto dei missili cosiddetti Kameer, forse non avremmo avuto la necessità di chiedere agli alleati americani di metterci uno scudo che consente di difendere non solo il nostro Paese, ma un'altra piccola capitale che c'è anche dall'altra parte del Tevere, del quale noi dovremmo avere, almeno contezza della presenza, una certa responsabilità indotta. Quindi questo è un piccolo passaggio. L'industria della difesa, vuol dire tanto, e qua rientro già nell'argomento, non vi voglio ammigliare, avete la fortuna che parlo prima oggi, quindi mi liberate di me in anticipo rispetto a quelle che erano le previsioni. L'industria della difesa sta in un contesto più ampio, io l'ho riassunto in alcune fasi. Allora, la geopolitica è quella delle alleanze, la geopolitica è quella dell'industria, la geopolitica è quella della tecnologia, la geopolitica è quella delle materie prime e la geopolitica oggi è quella dei nuovi domini che sono cyber e spazio. Tutto questo non può essere disgiunto come non è disgiunto dalla parte informativa e quindi dall'informazione e dall'intelligence. io credo che nessuno di noi possa immaginare oggi che in Occidente qualcuno possa fare qualcosa da solo. Se voi pensate a qualcosa che non è militare, ma per esempio alla grande industria aeronautica americana, la crisi che ebbe la Boeing nel momento in cui ha avuto problemi con alcuni suoi volibili, ha messo in evidenza che anche il grande alleato statunitense probabilmente ha bisogno di alleanze industriali, alleanze industriali che a noi sono state offerte, per esempio in maniera molto palese, prima con gli F-35 ed ora io spero si vada anche verso quella scelta con i nuovi elicotteri della Sikorski, vuol dire aumentare posti di lavoro, vuol dire rinsaldare alleanze, vuol dire avere diplomazie parallele che già le forze armate fanno, perché forze armate e l'intelligence fanno una grande azione di diplomazia parallela che non viene conosciuta perché evidentemente è meno nota nella cultura popolare, ma nel momento in cui un ufficiale del Kuwait, dico per caso, arriva a Grottaglio, dico per caso, si addestra con i nostri ufficiali, vuol dire che domani quell'ufficiale avrà il numero di telefono come il nostro ufficiale, anche in un momento di crisi potrà alzare il telefono e parlare, vero Stefania, con quell'ufficiale di marina, aeronautica o dell'esercito col quale si è addestrato. L'industria crea anche queste condizioni, perché la vendita di mezzi che sono gli strumenti militari, nella loro fase di upgrade, di aggiornamento, di riaddestramento consentono anche questo spazio, oltre che un dato economico. Oggi ci sono i domini nuovi. I domini nuovi sono quello, indubbiamente, della cyber di cui parlerò prima prettamente parlando di intelligence. Il dominio spaziale. Il dominio spaziale è qualcosa di estremamente complesso, nel quale noi dovremmo avere l'orgoglio di essere fra i migliori al mondo nella capacità di presentare tecnologia e il personale addestrato. Non per nulla abbiamo di un riconoscimento forte, particolarmente in alcuni casi sul suborbitale. Addirittura ci sono grandi nomi dell'industria privata che hanno chiesto di collaborare con le nostre forze armate per parlare di suborbitale. Però vuol dire anche qualcos'altro. Vuol dire che lo 0-100, ovvero da 0 km, vuol dire la terra, fino a 100 km, che cos'è? È semplicemente un dato economico o è un dato di sicurezza nazionale? La difesa aerea è da mettere in campo come sicurezza nazionale o solo come dato economico? Ecco, questo per dirvi che oggi come oggi il confine o il perimetro di quello che è economia rispetto alla sicurezza è estremamente labile. Lo diceva prima il generale Rezzarelli, con il quale ho condiviso un periodo non particolarmente Fausto per noi che eravamo il governo, ovviamente, non per lui che era capo di Stato maggiore, quando tutto doveva essere duale, però vabbè, non importa. Lo diceva prima il generale Rezzarelli che ci sono degli spazi, io devo sapere quali sono i miei alleati, devo mettermi in condizione di capire anche qual è la mia capacità. Però poi ci sono delle cose che devo gestirmi e la gestione dell'interesse nazionale oggi è evidentemente diversa da quella che era l'idea del secolo scorso di sicurezza nazionale. Sicurezza nazionale, come si diceva prima, una volta ora il confine nazionale erano le infrastrutture. Oggi la sicurezza nazionale sono infrastrutture lontane dal Paese, sono valori labili come i dati tecnologici, sono quello che poi rientra in quello spazio di concorrenza che non conosce tanto le barriere delle alleanze rispetto ad alcuni tipi di industria. La nostra concorrenza l'abbiamo vissuta, la viviamo quotidianamente, specialmente nell'ambito della difesa, non è che i cugini del trap ci fanno sconti se devono vendere loro qualche nave rispetto alla nostra. E questo vuol dire che tutto quello che è interesse nazionale, quindi meno perimetrato, anzi non più perimetrato, sta nell'interno di una collaborazione. Mi piace sempre immaginare che si vada sempre di più e in maniera più facilitata nella collaborazione joint fra le forze armate, però non basta più perché di fatto tutto quello di cui stiamo parlando è ormai joint. Oggi non esiste nulla che riguarda l'interesse nazionale che non sia legato ad una forma coordinata. Io vendo se ho intelligence che mi dice cosa posso vendere, quali sono i tipi di clienti, che cosa vuole il mio cliente. Vi faccio un esempio, non parlo di difesa, parlo in senso generale. I francesi hanno individuato il fatto che tutte le aziende che sono di interesse strategico nazionale, quindi parliamo di armi, di petrolio, di tutto. I loro dirigenti hanno le garanzie funzionali fondamentalmente. Cosa vuol dire? Le garanzie funzionali sono quelle che noi diamo solo agli operatori dei servizi che operano nel momento in cui, diciamo, devono fare qualche cosa che non è perfettamente all'interno. Ovviamente è tutto passato attraverso la magistratura. Ecco, voi immaginatevi, vi faccio un esempio. La differenza fra l'amministratore delegato del Leni e l'amministratore delegato della stessa azienda francese. Il nostro, appena esce, guarda in maniera sbagliata il suo fornitore, qualcuno dice, gli hai regalato il Rolex? Al francese gli dico, scusa, ma gli hai regalato il Rolex? Guarda che te lo paghiamo noi. C'è questa la differenza sostanziale fra pensare a che cos'è l'interesse nazionale e non derogare necessariamente a tutto quello che è politicamente corretto. Tenete presente che io sono uno che credo molto nelle istituzioni e molto nelle regole. Però, come si dice dalle mie parti, l'amministratore è obbligato a fare il pillo, non è obbligato a fare il pillo nella vita. Ci sta tutto. Che cosa c'entra l'intelligence? C'entra. E come c'entra? Perché tutte queste attività hanno un supporto. E ci sono due grandi, diciamo, aree che riguardano l'intelligence. Come ho detto prima. Una è la notizia e l'altra è l'informazione. Io vorrei dire qua che forse se valorizzassimo anche le risorse delle forze armate in termini di intelligence sarebbe una grandissima cosa. Vi faccio un esempio. Ormai sono passati anni, ma lo ricollego oggi. Nel 2019 sedevo in quell'ufficio dove c'è Stefania oggi e per caso un giorno vado a RIS. A RIS, che è un intelligence militare, insomma, mi chiamava così, capisco che tutti i mesi, o almeno con periodicità, dagli addetti militari arrivano dei report. Ho detto, caspita, forse c'è anche qualcosa di interessante. E chiedo di averli mensilmente. Già lì mi hanno guardato male, ma ho detto, guardi che almeno tre legislature, che nessun sottosegretario guarda i report che arrivano dagli addetti. Ma c'è un esempio che mi è venuto in mente il 24 di febbraio 2019. Notizia aperta, quindi nulla di segreto. Il nostro addetto militare a Mosca scrive, quest'anno è stato programmato i campi estivi per i giovani dai 15 ai 17 anni. Quest'anno la Russia ne ha programmati dal corso di 500 5.000. Fate il conto degli anni 19, 20, 21, 22. Quei ragazzi che si sono addestrati in quell'aumento esagerato di campi estivi sono gli stessi che sono stati schierati oggi all'interno della guerra, nel contesto della guerra d'Ucraina. Questa è una notizia. Poi c'è l'intelligence che è quella delle informazioni. Io ho sempre pensato di una cosa e continuo a crederci. Oggi è l'era della cyber, dove indubbiamente il dominio nuovo, la tecnologia. Ovviamente ogni paese ha i suoi interessi, specialmente sulla nostra area occidentale. C'è chi è interessato a rubare dati industriali, chi è interessato a mettere in crisi una situazione economica bancaria, un'istituzione. C'è chi invece semplicemente ci tiene a rimanerci lì dentro e rubare a poco a poco le notizie. Io credo che il nostro paese dovrebbe imparare ad essere un pochino anche più proattivo. Perché abbiamo fatto un'agenzia per la cyber che parla solo di resilienza. Io credo che le regole servano anche per consentire anche nel momento in cui succede qualcosa di poter rispondere. Ma questo è un altro discorso. Perché vi dico questo? Perché la tecnologia che è stata sviluppata ha sempre bisogno di una cosa. Non so se a voi è capitato di leggere un bel libro, a me è sempre piaciuto quel libro. Graham Green scrisse un libro che si chiama Il fattore umano. Il padre di spionaggio. Il fattore umano è centrale. Perché tu puoi avere tutta la quantità di dati che vuoi, ma se non sai analizzare e non sai produrre qualche cosa da dare poi al decisore politico, perché questo è l'altro confine. L'intelligence non fa sciolte. L'intelligence mette in condizione il decisore politico di prendere le sue decisioni, come era vero prima quando si parlava di responsabilità. Il fattore umano è quello che fa capire a una persona che sta lavorando ad una determinata azione cyber di capire che sta succedendo innanzitutto. Mi ricordo una situazione che non riguarda diciamo così, io quando dice diciamo così, fate finta che riguardava una situazione che ho visto quasi indiretta. Una nostra nave, per esempio, diciamo una nave alleata, sta facendo un attracco in un porto alleato. C'è un momento in cui si attaccano, si attaccano, si attaccano lo spinotto, lo stacchi dalla nave, la nave si ferma e devi attaccarlo nel porto. In quella fase c'è sempre qualcuno, non sempre mai capitato, che prova a metterci la nave ombra in modo tale che ti può rubare i dati. Allora, se io in quel momento un operatore che sta guardando e capisce che c'è qualcosa che non funziona, oltre ai mezzi tecnologici, probabilmente ho sventato un attacco all'interno di un sistema di sicurezza delle forze armate. La risorsa umana poi in alcuni casi non è riproducibile. Vi faccio un esempio, scusatemi, vi faccio un esempio che non vorrei fosse confuso in termini di raccismo, ma è un dato come dire. Allora, se io, prendiamo l'Italia, no, prendiamo gli Stati Uniti perché mi viene meglio l'esempio. Un cinese a New York, probabilmente non è che si nota molto, ma a un anglo sasso e a Pecchino si nota. C'è una differenza sostanziale. E questa parte riguarda anche chi fa cosa. Noi abbiamo delle capacità di penetrazione storiche che sono legate a una capacità di interpretazione anche psicologica dei teatri dove lavoriamo. Cioè, in termini, lavorare nel Mediterraneo a livello di intelligence, parlo di Libia, ma giù fino al corno d'Africa, è un fatto quasi di facilitazione culturale rispetto a chi ha delle culture diverse. qualcun altro saprà lavorare in modo diverso. E c'è una filosofia militare che mi colpì molto, lo dico invece agli amici ufficiali. In uno dei seminari nato a Washington mi colpì moltissimo una cosa perché venne il sottosegretario della difesa, Stefano, lui ha davvero i bottoni quelli americani, cioè quello ci li ha davvero. E disse una cosa, ma sapete, era un seminario ristratto. Noi abbiamo una nostra cosa perché in alcuni teatri noi ci capiamo perché noi abbiamo il missile e loro hanno il carro armato e lo missile è sul carro armato. Quando ci spostiamo sull'altra sponda del Mediterraneo cominciamo a fare un po' di difficoltà perché evidentemente le culture sono diverse. Noi italiani sappiamo leggere sfumature che altri non sanno leggere. E questo mi porta ad un ragionamento finale e complessivo avendovi già ampiamente addormentato con le mie considerazioni. Vi ho detto prima, il decisore politico è quello che è la responsabilità. Se non si definisce una politica estera, non si definisce una politica militare, lo strumento militare, il mezzo e tutto il resto. Io credo per esempio che noi in Europa dovremmo avere un ruolo all'interno dell'industria della difesa non vendendo asset come si è letto in alcuni casi nel momento in cui arrivano magari dei soldi, parlo di Otto Melara, parlo di OAS. Cerchiamo di consolidare un polo della difesa che ci consenta di essere contrattuali ed entrare nelle filiere europee ma ancora di più c'è una grande, e qui lo dico, non dico di un sintetico importante, una grande discussione che va fatta. Io penso che quali della mia generazione avevano interpretato, unicamente ma per un fatto storico, la Nato come un'alleanza militare. Credo che in questo momento ci sia un'evoluzione, ovvero che la Nato si stia trasformando anche in un'alleanza, posso dire politica, aggiungerai forse valoriale, le due cose stanno insieme perché le filosofie e le politiche vengono anche da una condivisione di valori. Io credo che questo abbia bisogno di una discussione assolutamente importante. Dico che non è vero che non siamo protagonisti, io lo dico anche a Gian Antonio Gaiani, scusa, a Gian Andrea, che è un amico. Allora, noi siamo sempre stati, almeno anche negli ultimi anni, nel formato quinto. Il militare non ha bisogno che lo spieghi, ma è comunque un formato ridotto di Italia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Stati Uniti. Ebbene, dopo un'esperienza diciamo, non particolarmente anche in questo caso, io sono un po' sfigato, ho capito sempre nelle esperienze non fauste, ma diciamo, non fausta, particolarmente di recente governo, noi eravamo stati in parte marginati dall'altro quint, che è il periodo della community dell'intelligence, ci siamo rientrati a pieno titolo. Quindi il fatto di rientrare non negli elementi decisori, ma almeno negli elementi di analisi, ci mette in una condizione di prospettiva rispetto alla qualità del lavoro che noi poniamo in tutto quello che abbiamo detto, non solo dell'intelligence, che credo sia assolutamente importante. Finisco dicendo, prima scherzavo quando ho fatto la battuta sull'interventismo, io devo dirvi, sinceramente sono semplicemente un pochino dell'idea che un minimo di proattività mette in sicurezza il Paese. Insomma, a me è dispiaciuto regalare la Libia a turchi e russi, mi è dispiaciuto regalare il corno d'Africa alla Turchia o a quelli che ci stanno arrivando. Mi è dispiaciuto e mi dispiace vedere, e qua la sollecitazione alla politica, ma anche a chi lavora negli organismi internazionali, immaginarsi che non ci sia un fronte sud dell'Occidente, non della Nato, dell'Occidente, con una Cina che avanza nel continente africano. Permettetemi l'ultimo passaggio che riguarda le informazioni. Vedete, noi abbiamo visto, io ho visto ieri un report, insomma, su quelle che sono le escalation informative, cioè come si costruiscono in 10, 12, 15 anni i presupposti per avere delle piattaforme che nel momento in cui servono fanno falsa informazione. Ma questo deve esserci anche di democratico insegnamento. Ci sono aree dell'Africa dove noi potremmo fare stratcom raccontando la verità. Ovvero, se qualcuno fa per esempio informazione in alcuni paesi che sono poi quelli che portano a forti massi di immigrazione per un dato di stato economico, dicendo, è vero tuo figlio ha studiato, ma tu vai in Europa perché lì troverà lavoro, troverà soddisfazioni. Io credo, e ci sono queste piattaforme, ci sono. Io credo che nello stesso modo e in maniera non sempre necessariamente riconducibile agli Stati, vado a fare l'operazione verità. Veniamo noi ad aiutarti, ma non pensare che se tuo figlio o tua figlia parte perché ha studiato diventa e va là a fare l'ingegnere. Ecco, questa è la consapevolezza che io credo serva di un paese e credo che serva nel riconoscere alle nostre forze armate, quello che diceva prima Stefania Pucciarelli, doti di capacità, anche di umanità perché io non dimentico che se per fortuna non siamo percepiti come un paese neocolonialista è dovuto anche alla capacità di proporsi nei teatri. E un paese che però, picchio dicevi prima, in teoria noi decliniamo da sempre le nostre posizioni, poi quando dobbiamo entrare nella pratica siamo leggermente grippati come un motore vecchio. Io penso che in questo momento PNRR, investimenti, molti implicatori, politica estera, alleanze certe, siano nella loro drammaticità del momento, mancano le cavallette quelle che non sono riuscite a catalogarle, siano una grande opportunità per il paese e per l'Occidente. Sui valori non si può derogare. Punto. Grazie di più.